L'acquedotto arriva a Fossa del Lupo. Sono infatti in corso i lavori fra via Laurentana e la frazione cortonese dove Nuove Acque sta realizzando lo scavo. Grazie all'intesa tra amministrazione comunale, gestori idrico ed abitanti anche questo piccolo centro sarà così raggiunto dall'acquedotto. Quando c'è sinergia tra la società dell'acqua, il comune e i privati si riescono a fare cose che sarebbero state impensabili fare con sistemi tradizionali. L'operazione è stata resa possibile grazie ad un investimento di Nuove Acque pari a 70.500 euro ad un contributo del comune di Cortona di 62.000 euro e a quello di privati pari a 57.500 euro. Sono circa 50 cittadini residenti che contribuiscono circa per un terzo alla realizzazione dei lavori. A ogni cittadino gli è venuto circa 2.000 euro per allacciamento. L'impegno economico complessivo dunque sfiori 200.000 euro. Sono 48 gli utenti di Fossa del Lupo che hanno contribuito rendendo possibile questo investimento e che fra poche settimane saranno serviti dall'acquedotto. L'estensione sarà quasi di un chilometro e mezzo.